importanti. Toninelli, anche per voi una vittoria, anche se poi in realtà la legge del Partito Democratico. La legge del Partito Democratico è solo sulla carta, è in aula e oggi probabilmente verrà votata alla Camera, esclusivamente perché il Movimento 5 Stelle ha dato l'anima per portarla in aula, perché ricordiamo che lo spazio per votare in un provvedimento era nostro. Il PD l'aveva scritta, firmata, rinchiusa in un cassetto, siccome ci hanno bocciato tutte le nostre proposte, abbiamo tirato fuori la loro, le abbiamo portate in aula, le abbiamo fregate e penso che siano parecchie in difficoltà adesso. C'è chi dice che l'ok della Camera poi significherà invece uno stop al Senato, dove i numeri sono decisamente più risicati e il Partito Democratico è anche un po' spaccato, come lo è stato anche qui. Ma io li invito a non provarci, oggi la proveremo qua, sarà una grande vittoria per noi, è l'inizio, ci stiamo avvicinando a toccare la medaglia d'oro, ma da qua ci trasferiamo al Senato, ma non provassero, vogliono regalarci dieci punti di consenso, non lo so, vogliono suicidarsi politicamente, devono approvarla al Senato, noi con molta pacatezza, una volta approvata qua non esulteremo più di tanto, andremo al Senato, andremo dal Presidente Grasso e diremo, Grasso e fuori, milioni di italiani ci chiedono un grande esempio, non cambierà la vita degli italiani, ma cambierà il senso di fiducia che gli italiani oggi non hanno più, per colpa di legge ad persona, mad custom, che hanno sempre fatto, questa è una legge che rende uguali i parlamentari con i cittadini comuni mortali, si parla di legge fornero applicata per la pensione, anche i parlamentari, è una bella notizia questa. Senta, però c'è chi parla di incostituzionalità della legge perché va a toccare diritti acquisiti, questo è ampiamente probabile che succeda? Allora, chi lo dice sono ad esempio Forza Italia che hanno votato il legittimo impedimento incostituzionale o l'Odo Alfano incostituzionale, sono quelli che non li vogliono perché loro li aspettano, hanno già in tasca il biglietto di sola andata per non lo so, per le Hawaii una volta usciti di qua perché hanno già fatto tutta e meno un paio di legislature, gli sta cambiando la vita, loro hanno progettato la loro vita sul privilegio di casta dei vitalizi, delle pensioni privilegiate, noi quel biglietto di sola andata lo stiamo levando dalle tasche e gli stiamo dicendo che non ci sono cittadini che possono andare a 60 anni con tanti soldi pubblici in tasca a fare la bella vita, non c'è più questa possibilità, è per questo che non gli conviene bloccare tutto il Senato? Senta, c'è anche però una dignità della politica teoricamente, questi rappresentanti del popolo italiano dovrebbero essere la creme della creme dell'Italia e quindi essere molto ben pagati, anche molto ben retribuiti, questo significherebbe essere un parlamentarismo forte, una politica forte che dà delle risposte, questo non rischia di svilire il Parlamento? Allora oggi la politica, anzi negli ultimi decenni la politica è stata occupata da opportunisti, da faccendieri, da un po' anche di corrotti diciamo la verità, che ha creato un sistema, ma la politica faceva le leggi a favore di un certo sistema imprenditoriale, dalle banche, dalle società finanziarie, poi queste banche o società finanziarie o grandi imprese finanziavano i partiti durante le campagne elettorali o poi i politici entravano nel CDA di queste multinazionali, i soldi hanno rovinato la politica, la politica è una missione fatta per fare del bene agli altri, chi sono gli altri? È il popolo italiano, i soldi devono essere sufficienti per vivere dignitosamente, per impegnare tutta la vita in questa missione, ma non per arricchirsi, non per andare in vacanza tutta la vita. Bene, grazie a Danilo Toninelli per essere stato ospite di René.